È stata una lunga notte di lavoro quella appena trascorsa per i vigili del fuoco di Arezzo e degli altri distaccamenti arrivati ad Aremanforte per lo spegnimento dell'enorme incendio che intorno alle 19 di ieri si è sprigionato all'interno della ex-tab di Foiano della Chiana che da qualche anno aveva cessato la sua attività. Quasi 30 uomini sul posto al lavoro per spegnere i focolai di incendio ancora accesi e per procedere con la messa in sicurezza della zona soprattutto dopo il primo crollo del solaio che c'è stato ieri sera intorno alle 20. Ancora difficile stabilire l'origine del rogo secondo quanto riferiscono gli addetti ai lavori. Subito dopo l'inizio dell'incendio si è alzata in aria una nube di fumo densa e scura trasportata dal vento e che ha raggiunto con il suo forte odore di bruciato il centro del paese di Foiano ma anche i comuni limitrofi in primis Castiglion-Fiorentino, Cortona e Lucignano. Ed è per questo che è scattata la raccomandazione della ASL che ieri sera ha diramato una nota per la salute pubblica della cittadinanza visto che all'interno dello stabilimento si trovavano materiali plastici e vernice nonché eternit caduto dal solaio. Non si registrano ustionati, feriti o intossicati, scrive la ASL in una nota. Sul fronte degli eventuali problemi respiratori il Dipartimento della Prevenzione raccomanda alla popolazione di evitare esposizione fumi. I venti stanno spingendo i fumi sia verso il centro abitato di Foiano che in direzione Valdichiana. La raccomandazione è di non stare all'aperto, di non tenere le finestre delle abitazioni aperte. raccomandazioni rivolte in particolare a bambini e persone soggette a difficoltà respiratorie. Anche il Comune di Foiano si è attivato da ieri sera con un servizio SMS invitando i cittadini a restare nelle proprie abitazioni. Nelle immagini gli stessi uomini dell'arma, i sanitari e i fotografi sul posto hanno dovuto indossare mascherine per proteggere le vie respiratorie. Motivi che hanno indotto l'amministrazione comunale di Foiano a decidere per la chiusura delle scuole e a far slittare di un giorno la festa del fiore tradizionale appuntamento di Foiano che avrebbe dovuto iniziare questa mattina.